Potrebbe essere anche un aiuto, un aiuto perché è uno sport che, a parte a livello di capacità fisiche e coordinative, che sono fondamentali, è uno sport completo, non asimmetico in cui tanti pensano, ma che aiuta a coordinare tutti i movimenti del corpo, è anche uno sport che ti insegna tante cose e proprio per quella tipologia di situazione potrebbe essere molto indicato, anzi è un po' un peccato che ci sia un movimento un po' basso, anzi quasi inesistente. Questo sport può essere assolutamente utile per qualsiasi tecnologia di fiducia, è un po' il discorso che facciamo anche con chi approccia questo sport ad un'età adulta, non c'è un'età per iniziare a giocare a tennis, non c'è una condizione per giocare a tennis, c'è un avversario, c'è un campo e ci sono le varie situazioni, quindi adeguando le situazioni di avversari a quello che è il tuo livello e le tue possibilità puoi giocare con qualsiasi tipologia di disabilità o abilità, con qualsiasi tipologia di età, uno ama, quindi tutti, tutti possono dire attenzio.